Sono stati due fine settimana, quattro giorni interi al riconoscimento delle piante spontanee, alla raccolta guidata e alla trasformazione in cucina con due classi del nostro amato corso annuale. Ha delle squame ben visibili sul bordo alle spine, quindi no dietro, no sulla foglia. Qualcuno delle punte più lunghe e mezzo più piccole. Le diamo una pulizia veloce. I fiori per il nostro sale selvatico annuale. Non l'avete pulito, ci vanno anche buccioli. Il cardolo, ho fatto un piccolo soffritto. Oggi abbiamo preparato l'orzo con il pesto di pratoline centocchio. Ogni giorno abbiamo cucinato tantissime pietanze a base di erbe spontanee, abbinate ai prodotti di altissima qualità e salvia. Il risultato sono stati tantissime pietanze colorate, belle, sane, per un'alimentazione più energetica e consapevole, per aumentare la nostra salute, quella degli altri e del mondo. Tante preparazioni versatili, semplici e gustose, per portare colore e amore in tavola. Sono state giornate veramente divertenti, ricche di informazioni, conoscenze, sia pratiche, teoriche. Ci siamo divertiti tantissimo, con Luce, Lena e Roberta.